Lo chiamano il paese delle donne con le parrucche, un borgo vicino a Milazzo dove alta l'incidenza di tumori rari. La regione siciliana certifica l'alto rischio ambientale per la concentrazione di tante industrie in pochi chilometri. L'inviata Giovanna Cucè. Dina abitava qua e non c'è più. No, è morta. Adesso però anche lei si è ammalata, Angela. Ho un calcinoma infiltrante balegno e in quattro mesi sono stato verata due volte. Angela, che lottava per Dina e le altre, adesso lotta contro il tumore che ha colpito anche lei. Sei anni dopo siamo tornati nel quartiere delle donne con le parrucche per via delle cure che fanno perdere i capelli. Passo Vela, contratta di pace del Mela, 6.000 abitanti in un vasto comprensorio considerato assieme a pochi altri in Sicilia ad elevato rischio ambientale. Una raffineria di petrolio, una centrale termoelettrica, un elettrodotto i cui cavi sfiorano i tetti delle case. Qui ci si continua ad ammalare. Mi ricordo quando siete venuti l'ultima volta voi qua, che siamo andati a bussare alle porte delle persone che erano malate. Subito dopo queste persone sono state minacciate. E non solo minacciate, sono venute a ritirarsi anche le cartelle cliniche. In una terra provata come questa c'è chi aveva pensato di costruire anche un inceneritore, ma il progetto per il momento è stato accantonato. Gli ultimi studi epidemiologici della regione dicono che in tutto il comprensorio c'è un'incidenza elevata di alcune malformazioni. I medici sul territorio registrano il ritorno di malattie rare. I tumori che ho studiato 30 anni fa, rarissimi, mi sono trovato negli ultimi due anni sei casi. Siamo considerati numeri e numeri restiamo. Se chi deve decidere per noi ci considera anche tali.